ecco l'occorrente per confezionare un panettone su un piatto busta in tnt piatto fantasia nastro in cotone con stelle organza rossa e nastro garza allora prima di tutto inseriamo il nostro panettone all'interno del sacchetto tnt e lo leghiamo con un nastro poi per poter fissare il panettone al nostro piatto utilizziamo del biadesivo giriamo il piatto mettiamo del biadesivo sul nastro in modo che non ci si muova al momento della nostro confezionamento facciamo due belle passate appoggiamo il piatto ed ecco qui che rimane attaccato perfettamente centriamo il nostro panettone tagliamo il nastro e leghiamo al nastro già presente che è servito per strozzare il nostro panettone sacchetto il piatto passiamo dietro in modo che non si veda e facciamo un nodo tagliamo il nastro che in eccedenza e ora decoriamo il davanti del piatto utilizzando il nastro che abbiamo strozzato il sacchetto facciamo una bella gala d'organza rossa alta che ci serve per dare il volume utilizziamo questo nastro sempre in lino con le stelle rosse facendo una doppia gala una volta chiuso apriamo le nostre gale bene tagliamo i nastri della stessa misura ed ecco qua il nostro panettone